Ben ritrovati, lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria e Picoco di martedì 6 febbraio 2024. Trascurando il comandamento di Dio voi osservate la tradizione degli uomini. Il Vangelo di oggi ci mette davanti a queste parole lapidarie di Gesù che dovrebbero davvero essere un esame di coscienza non solo per ognuno di noi ma anche per le nostre comunità e le nostre esperienze ecclesiali. Infatti sovente capita che tutta la nostra fede diventi solo la somma di tante tradizioni umane che sono lodevoli, belle, interessanti ma che a volte mancano il bersaglio sulla cosa che conta di più, il comandamento di Dio. Infatti a cosa servono le nostre tradizioni se poi ci dimentichiamo di amare il prossimo, noi stessi o Dio stesso? Non è forse vero che certe volte Gesù o i Santi sono solo il pretesto per fare cose nostre in cui non entra per nulla la logica del Vangelo. E così siamo tradizionalmente cristiani ma poi non lo siamo realmente. Gesù disse una volta nel Vangelo che l'albero lo si riconosce dai frutti. Dovremmo stare sempre molto attenti a non confondere i frutti con le foglie. Possiamo ostentare il cristianesimo così come un albero ostenta le sue foglie. Ma la vera prova che stiamo vivendo la fede cristiana è nei frutti. Questo sarebbe un buon discernimento da fare con lealtà per capire ciò che va tenuto e difeso e ciò di cui possiamo tranquillamente fare a meno. O almeno evangelizzarlo di nuovo. Infatti non dobbiamo per forza buttare tutto, dobbiamo però far incontrare tutto con il fuoco del Vangelo. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi. Grazie. Grazie.